Via libera dell'ASL Avezzano sul Monalacuila alle assunzioni degli operatori sociosanitari lo ha annunciato in una nota direttamente il direttore generale dell'azienda sanitaria Rinaldo Tordera. L'ASL da oggi primo agosto comincia a coprire i posti disponibili per operatori sociosanitari sulla base della graduatoria del concorso espletato nel 2015, spiega il manager dell'ASL 1 specificando che a tal proposito è stato predisposto un apposito cronoprogramma. Sulla scorta di tale cronoprogramma, aggiunge Rinaldo Tordera, da oggi scattano le prime assunzioni che saranno successivamente eseguite da altre in modo da coprire le necessità legate alle dotazioni organiche entro il 1 ottobre prossimo. L'espletamento delle procedure per l'assunzione di nuovo personale ha visto un lungo iter che partire da gennaio 2015 quando la regione Abruzzo diede l'ok per 178 assunzioni a tempo indeterminato. Grazie. 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 Grazie.